Tutti, tutti gli uniti atomici delle masse sono falsi. Ho esprimito questo motivo e lo corriso. Nel numero di kg, in cui ogni unità fisica è una, come un unità è, come prodotto tra la materia e l'antimatera, il numero unitario per la materia è 1 dividendo i numeri antimatteri e il risultato è un n diverso da 1, che è l'unità della materia. Naturalmente, n elevato a meno 1 è l'antimatera, che è in quantità decimale, e che dovremmo ignorare, essendo il motivo del numero n diverso da 1, anche se rappresenta la unità della materia. Raramente il errore che sta in atto oggi è più bambino, è un errore in epistemologia, perché l'idea che i decimali sono un'unità, dove una definizione più alta della unità è davvero un vero orribile non senso, quando una unità è il prodotto tra due parti inversi, e quindi la unità di una parte viene da un'altra parte. Noi non possiamo considerare due parti. Come in una nuova, naturalmente, la nuova ha questa parte parte sulla linea dell'equilibrio, e questa parte che è la ragione di questa parte di subito. La parte subito è la ragione di questa parte di subito. è semplice, ma questo grande errore è uno dei due, e questo è il motivo di questo. È semplice, ma questo grande errore è uno dei due, che oggi non consentono la unificazione fisica. L'altro è relativo al C2. è semplice. L'altro è semplice, perché, se consideriamo che l'energia è uguale alla massa, e la massa è uguale a C2. Quando l'energia è uguale alla massa, la massa è uguale a C2. E è equalsabilita alla massa. E è uguale, E non è uguale toda. E è uguale a C2 e è uguale a C2. Il quadro luce non rappresenta l'unità dell'energia elettromagnetica, perché l'unità dell'energia elettromagnetica riguarda un volume, la massa del volume, e siamo in l'impossibilità di avere una quantità di volume con una semplice velocità, se non consideriamo l'energia elettromagnetica del flore elettrico. Se non consideriamo questo fronte, non possiamo avere la quantità della massa, perché una massa è la massa di un volume che riuscita. Dopodiché questa massa riuscita in modo elettrico, ma anche in modo magnetico. in modo elettrico è uguale al magnetico. In questo modo l'energia è il pulsante simultaneale la massa riuscita in due direzioni, elettromagnetica e c2 è l'unità dell'energia elettromagnetica perché la massa riuscita simultaneamente in due direzioni, elettromagnetica e magnetica. quindi oggi la fisica è l'unità dell'energia elettromagnetica, come per la massa m, come per la c2. quando correttamente correttamente, in modo in cui dico, abbiamo finalmente la unificazione fisica.